Musica Nessun dettaglio sul programma della visita di Papa Francesco a Milano fissata per il prossimo 7 maggio l'Arcivescovo Scola però nel messaggio odierno in Duomo non ha nascosto gratitudine e commozione per l'arrivo del Pontefice e si è augurato che quella giornata possa essere un'occasione che coinvolga tutta la città Si allargano le fila dei soggetti interessati a essere protagonisti del dopo Expo l'ultima idea arriva da Assolombarda e prevede un polo tecnologico sull'area ma tiene banco la questione legata alla bonifica dei terreni con Maroni che ipotizza una fusione tra due società coinvolte e la CISL chiede che non venga dispersa l'esperienza lavorativa di chi ha contribuito al successo dell'evento Il sondaggio Ipsos che ha di fatto lanciato Giuseppe Sala per il ruolo di sindaco di Milano fa discutere entrambi gli schieramenti secondo i bene informati la DD Expo starebbe valutando una sua discesa in campo con il PD che lo lusinga e il centrodestra che appare in difficoltà anche per le perplessità della Lega su un'eventuale candidatura di Maurizio Lupi Un colpo datato 21 maggio 2014 ma gli arresti 5 sono di oggi e il video che testimonia la rapina ai danni di un macellaio islamico è stato diffuso dalle forze dell'ordine i ladri hanno finto di essere carabinieri e dichiarato di dover effettuare un controllo Buonasera a tutti ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telenove con il TGN ieri l'annuncio oggi quello ufficiale in Duomo da parte dell'Arcivescovo Scola che ha confermato la visita di Papa Francesco a Milano fissata per il 7 maggio dell'anno prossimo mi piacerebbe che fosse una visita che coinvolgesse tutta la città ha sottolineato l'Arcivescovo che per ora non ha voluto fornire dettagli sulla giornata perché ha detto sono illazioni premature sentiamo il servizio di Anna Maria Braccini L'annuncio arriva a conclusione dell'intenso incontro con il Patriarca dei Maroniti di Libano il Cardinale Butros Behararai ed è subito applauso spontaneo da parte dei moltissimi sacerdoti che sono in Duomo il Cardinale Scola con gioia e commozione dice della visita del Papa che arriverà il 7 maggio prossimo non vi sono particolari per ora domani mattina si riunirà il Consiglio Episcopale Milanese per dare avvio ai preparativi dell'evento ma intanto l'Arcivescovo è molto chiaro tutti coloro che persone, soggetti sociali abitano la realtà milanese e lombarda ne siamo certi accoglieranno con Letizia questo grande dono io tengo molto che anche sull'onda dei dialoghi per la vita buona che cominceremo adesso sia una visita per la città non solo per la Chiesa ma per tutta la realtà cittadina diocesana e anche lombarda così sarà una visita che inserendosi nell'anno giubilare della misericordia parlerà della vicinanza della Chiesa a ognuno della preferenza per i poveri secondo la logica della Chiesa in uscita voluta da Papa Francesco dinamica che viene sottolineata anche nella visita pastorale iniziata dall'Arcivescovo per avvicinare tutti i fedeli nei decanati della diocesi il contenuto del programma è tutto da discutere voi avete visto bene in questi anni quanto questo Papa sia personale quindi è inutile fare chiacchiere bisogna che ci troviamo lui mi ha detto ci vediamo parliamo e allora ci dirà insomma sarà un grande giorno sabato 7 maggio come sempre in Italia il sabato dalla mattina alla sera però sarà un giorno perché lui non fa mai la siesta quindi anche quel tempo lì passiamo alla politica perché in primavera ci saranno anche ovviamente le comunali a Milano il nome di Sala tiene banco di Giuseppe Sala soprattutto ovviamente per il centro-sinistra qualcuno ipotizza la nascita di una lista civica per appoggiare la candidatura di Sala poi ovviamente con il PD che si schiarerebbe dalla sua il centro-destra è in difficoltà pensa a delle alternative a delle soluzioni per replicare fa il punto per noi in questo servizio Alberto Carreras poi sentiamo qualche voce di oggi tiene duro per il momento Giuseppe Sala il pressing di parte del PD si fa sentire ma il commissario di Expo ha promesso che sino a dicembre sarà impegnato con la sua attività e non intende distrarsi ma senza dubbio le lusinghe sono tante secondo molti se Sala non avesse alcuna intenzione di candidarsi a sindaco di Milano a questo punto lo avrebbe già manifestato il che vuol dire che sotto sotto un pensiero lo sta facendo per Expo gli arrivano complimenti e congratulazioni da tutte le parti e senza dubbio un personaggio che può raccogliere consensi in una platea piuttosto vasta si sussura anche che nel centro-destra alcuni personaggi starebbero aspettando la decisione di Sala pronti a ritirarsi in caso di una sua discesa in campo certamente il ministro Maurizio Martina è un fan di Sala e ha voluto sottolineare che non c'è bisogno di un sondaggio per capire il valore e la personalità di Giuseppe Sala tra le tante ipotesi che circolano si è affacciata anche quella di una possibile lista civica a sostegno di Sala intanto Emanuele Fiano ha detto di considerarsi sempre in corsa anche se il quadro è affollato e non ci sono certezze vado avanti più convinto di sempre verso le primarie sostiene Pierfrancesco Maiorino dall'altra sponda il nuovo centro-destra spinge l'ex ministro Maurizio Lupi anche sulla base del 10% che gli viene accreditato dal sondaggio Ipsos per Maria Stella Gelmini coordinatrice di Forza Italia il fatto che a Milano centro-sinistra e centro-destra siano quasi affiancati nei sondaggi è un fatto che deve spronare verso un accordo di coalizione più ampio possibile ovviamente tutti dovranno fare i conti con il candidato dei 5 Stelle non ancora individuato a Milano il partito di Grillo viaggia ancora sotto traccia Corrado Passera che con Italia Unica secondo un sondaggio raccoglierebbe il 7% si dice molto soddisfatto non la pensa così il leader della Lega Matteo Salvini che gli ha subito sbarrato la strada dicendo che chi è stato ministro del governo Monti non sarà mai sindaco di Milano e non avrà mai i voti del carroccio e oggi al Pirellone proprio prendendo spunto dal sondaggio Ipsos citato anche da Carreras nel servizio i cronisti hanno chiesto delle riflessioni a due esponenti di primo piano della Lega e del Partito Democratico li ascoltiamo sono Massimiliano Romeo e Alessandro Alfieri sulla questione del candidato Lupi insomma da parte della Lega qualche perplessità c'è questo è evidente non l'abbiamo mai nascosto e quindi insomma però insomma perplessità ci sono anche su tanti altri nomi quindi si valuterà e vedremo il da farsi Sala indubbiamente è un grande professionista un grande manager un uomo delle istituzioni ha saputo interpretare al meglio questa sfida e sono certo che riuscirà a qualsiasi titolo a continuare il proprio servizio a favore della nostra comunità che sia nel paese che sia a livello territoriale questo lo vedremo anche con il Presidente del Consiglio però una figura come Sala può far bene ovunque io sinceramente non lo vedo molto un uomo come si può dire vicino alla città le periferie i problemi che Milano in questo momento ha apriamo la pagina della cronaca andando proprio a Expo perché otto uomini dai 18 ai 31 anni sono stati arrestati dai carabinieri per una rissa scoppiata all'interno di Cascina Triulza proprio nel sito espositivo il tafferuglio è avvenuto ieri attorno alle 19.30 tra tre venditori del mercato etnico due tunisini e un egiziano e cinque turisti egiziani accompagnati da una ragazza italiana di 23 anni e da un'egiziana di 25 la discussione è partita proprio da quest'ultima che ha prima ricevuto apprezzamenti spinti dai venditori e poi uno di loro le ha spruzzato addosso del profumo la ragazza non ha gradito si è rivolta al fidanzato il quale ha chiesto spiegazioni accompagnato dagli amici in breve la discussione si è trasformata in rissa con i carabinieri costretti ad arrestare tutti gli uomini coinvolti le due ragazze sono rimaste coinvolte nel tentativo di separarli e sono state medicate all'ospedale di Garbagnate milanese l'egiziana è stata dimessa con 15 giorni di prognosi l'italiana se l'è cavata per così dire con un occhio pesto adesso i due ferrovieri di Trenord li ricorderete sicuramente Riccardo Magagnin e Carlo Di Napoli che hanno subito lo scorso 11 giugno l'aggressione a colpi di macette alla stazione di Villa Pizzone a Milano e oggi hanno ricevuto un riconoscimento nell'aula del Consiglio regionale della Lombardia vedete le immagini durante la cerimonia il presidente della regione Roberto Maroni ha ribadito facciamo e faremo tutto il possibile per garantire la sicurezza di chi viaggia e soprattutto di chi lavora sui treni regionali Maroni ha dunque ricordato l'iniziativa della regione che a seguito dell'episodio ha approvato un piano per mettere 150 vigilante sprivati sui treni e nelle stazioni lombarde più a rischio la D di Trenord Cinzia Farisè nel suo intervento ha infine evidenziato che sulla linea S14 la stessa dove è avvenuto l'episodio ha viaggiato il 20% di quei quasi 8 milioni di visitatori di Expo che ha scelto il treno come mezzo di trasporto adesso ascoltiamo le parole del dipendente di Trenord Carlo Di Napoli che come ricorderete come avete visto anche nelle immagini ha rischiato di perdere il braccio per l'aggressione subita che per fortuna sta recuperando la funzionalità dell'arto e poi anche il presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattani ascoltiamoli stanno intervenendo stanno facendo i primi passi so che andranno avanti e quello che è successo a me non si deve ripetere mai più assolutamente è successo a me basta appunto questa capacità di non voltare la faccia dall'altra parte ma di adempiere fino in fondo il compito a cui siamo chiamati è un esempio che vogliamo indicare a tutti dopodiché il compito delle istituzioni non è solo quello di dare riconoscimenti è anche quello di assumere provvedimenti concreti la regione Lombardia lo ha fatto affiancando l'azienda Trenord per aumentare la sicurezza sui treni con il potenziamento dell'operazione dei vigilantes e anche in accordo con le forze di polizia con l'incremento della presenza della polizia sui nostri treni Ancora cronaca sono cinque le persone arrestate dalla polizia di Milano per una rapina ai danni di un macellaio islamico avvenuta il 21 maggio del 2014 cinque avevano finto di essere carabinieri che effettuavano un controllo ma sapevano benissimo che all'interno della casa c'erano dei contanti proventi di spaccio di droga Cinque rapinatori sono stati arrestati dalla polizia di Stato a Milano con l'accusa di aver messo a segno un'ingente rapina al titolare di una macelleria islamica nel capoluogo Lombardo L'uomo infatti secondo quanto riferito sarebbe stato al vertice di un giro di stupefacenti e per questo motivo avrebbe avuto la disponibilità di ben 200.000 euro che gli sono stati sottratti in casa Nell'abitazione dell'uomo in via Polesini i rapinatori tutti originari di Barletta si erano presentati il 21 maggio 2014 presentandosi con pistole e pettorine dei carabinieri poi erano fuggiti con la somma la vittima della rapina risulta a sua volta indagata per spaccio di stupefacenti era stato studiato a tavolino il colpo in casa dell'uomo che oltre ai risparmi del negozio custodiva nelle gambe del letto e sotto il materasso i proventi dello spaccio di droga in zona Corvetto a Milano era diventato la banca dei pusher e aveva confezionato pacchi di banconote sottovuoto pronti a prendere il volo per il Marocco il giorno dopo se non fossero piombati a casa i 5 rapinatori tutti arrestati nelle immagini il video del sopralluogo della banda dopo la soffiata sul tesoro in casa del macellaio una settimana prima del colpo e le telefonate arrivate alla polizia fatte da alcuni cittadini stranieri che hanno assistito alla rapina e hanno dato l'allarme i 5 il giorno dell'irruzione in casa del macellaio hanno indossato le pettorine dei carabinieri hanno finto un controllo per poi ammanettare e derubare l'uomo ora indagato per ricettazione torniamo adesso alla vicenda di Vapriodadda dopo le interviste tv di Francesco Sicignano il pensionato che ha ucciso un ladro albanese proprio a Vapriodadda il legale dei familiari del 22enne della vittima presenterà alla procura un'istanza affinché venga chiesta al GIP una perizia psichiatrica con la formula dell'incidente provatorio non mettiamo in dubbio la capacità di intendere di volere dell'uomo ha spiegato il legale ma vogliamo acquisire elementi utili sulla sua personalità e sul suo carattere l'obiettivo del legale l'avvocato Francesco Mongiu è quello di capire se l'indole di Sicignano emersa in questi giorni dalle esternazioni nel corso di programmi televisivi abbia influito sulla decisione di sparare intanto la procura di Milano oggi ha concesso il nulla osta per la sepoltura del cadavere del giovane la salma verrà trasportata nel nord dell'Albania dove vivono i genitori e dove venerdì 30 ottobre verranno celebrati i funerali con rito cristiano una ragazza argentina di 26 anni purtroppo si è suicidata lanciandosi dal quarto piano dell'istituto Marangoni a Milano è avvenuto intorno alle 16.10 di oggi in via Verri la polizia non ha dubbi sulla natura della sua caduta ci sarebbe almeno un testimone che ha visto la giovane cadere ha tentato di rianimarla subito dopo ma purtroppo è morta ancora prima che arrivasse l'ambulanza Expo adesso quando mancano quattro giorni al termine scende in campo a Solombarda con una propria proposta per il dopo esibizione intanto nelle polemiche su chi deve accollarsi i costi delle bonifiche Maroni ipotizza una fusione tra due società sentiamo creare un grande hub scientifico e tecnologico con università imprese centri di ricerca laboratori e giovani start up questa l'idea avanzata dal presidente di Asso Lombarda Gian Felice Rocca per il dopo Expo insomma sempre più prende piede quello che tra mille incertezze dovrebbe essere il futuro dell'area espositiva da Asso Lombarda però vengono chiesti tempi certi quando ci sono in ballo investimenti di centinaia di milioni non ci possono essere dubbi e malintesi entro la metà del 2016 tutti i nodi devono essere sciolti Rocca valuta positivamente il fatto che il governo abbia deciso di entrare a far parte di Arexpo la società proprietaria dei terreni nella prima settimana di novembre tutto dovrebbe essere messo nero su bianco intanto però si è scatenata la polemica sui costi relativi alle bonifiche dell'area Expo effettuate prima della realizzazione della piastra un problema sollevato dai consiglieri regionali 5 Stelle si tratta di una cifra di 70-75 milioni di euro che secondo i grillini andrebbe pagata da Fondazione Fiera e Gruppo Cabassi che erano proprietari all'epoca i Cabassi sostengono invece di essere addirittura creditori di 250 mila euro e Fondazione Fiera non ci pensa proprio morale per il governatore Roberto Maroni i soldi vanno trovati e si potrebbe pensare ad una fusione di Arexpo con la società Expo una proprietaria dei terreni l'altra che ha in gestione l'evento una situazione non semplice che potrebbe causare rinvie e ritardi intanto ormai siamo agli sgoccioli mancano 4 giorni alla chiusura del sipario e come ha detto il commissario Giuseppe Sala ci si avvia a superare i 21 milioni di visitatori un risultato sicuramente positivo quale sarà poi l'incasso è tutto un altro discorso comunque 166 mila persone hanno visitato i padiglioni venerdì 238 mila sabato 179 mila domenica superati i 20 milioni e 500 mila visitatori adesso il rush finale certificare le competenze di tutti i 20 mila lavoratori di Expo ed investire sulle politiche a partire da quei 20 milioni di euro promessi nel 2014 da regione Lombardia proprio per sostenere l'ingresso e il riorientamento nel mercato del lavoro e quanto propone la CISL della Lombardia nella lettera aperta dal titolo a Expo 2015 il lavoro ha dato una marcia in più rivolta a istituzioni imprese e a tutti gli attori coinvolti è sottoscritta da Roberto Benaglia segretario CIS CISL Lombardia con delega al mercato del lavoro il dopo Expo può diventare il primo test di massa per le politiche attive e per rendere davvero europeo e moderno il nostro mercato del lavoro scrive Benaglia non bastano gli accordi con i privati già siglati con i sindacati occorre una regia pubblica che investa sulle politiche attive e dia il necessario sostegno a queste migliaia di lavoratori che se anche nati flessibili da domani non possono essere lasciati soli un progetto di estrema utilità secondo l'assessore alla mobilità Pierfrancesco Maran quello del prolungamento della linea 5 della metropolitana milanese anche il ministro dei trasporti Graziano Del Rio ha confermato il via dello studio di fattibilità intanto tra pochi giorni verrà inaugurata tre torri l'ultima stazione della Lilla si lavora nel cantiere di City Life a Milano per terminare la realizzazione della stazione Tre Torri della linea 5 della metropolitana apertura prevista a fine mese l'ultima delle 19 stazioni dell'intero percorso da Bignami sino a San Siro Stadio e intanto si parla di un possibile prolungamento sino a Monza lo studio di fattibilità affidato a MM entro tre mesi sarà pronto il ministro dei trasporti Graziano Del Rio che insieme all'assessore Pierfrancesco Maran ieri ha effettuato un viaggio sulla Lilla ha confermato che il governo è disponibile a valutare il progetto che prevede un costo intorno al miliardo di euro i passeggeri della metro 5 sono in decisa crescita dai 55.000 di giugno si è passati ai 130.000 viaggiatori al giorno di oggi complessivamente hanno già viaggiato su questa linea circa 3 milioni di persone il progetto del prolungamento oltre alla stazione di Bignami prevede l'arrivo a Bettola dove arriverà anche la linea 1 del metro con una importante stazione di intescambio da Bettola poi convogli dovrebbero arrivare sino alla Villa Reale toccando l'ospedale di Monza il parco complessivamente 6 o 7 fermate collega la città di Milano con Monza l'abrianza Milano quindi avrebbe una grande utilità e serve anche la linea perché ha bisogno di un deposito noi stiamo andando avanti con gli studi di fattibilità e poi vediamo appena si è pronti anche con il governo per andare avanti si pensa anche a prolungare la 5 dalla stazione di San Siro Stadio verso il settimo milanese con altre tre o quattro stazioni qui il costo sarà intorno ai 500 milioni di euro sono 37 le presunte opere abusive 89 le ostruzioni in alve oltre 400 gli scarichi censiti nella mappa degli orrori che fanno sì che il fiume Seveso si trasformi a ogni temporale in un sorvegliato speciale a scattare la fotografia della situazione sono stati gli uomini del corpo forestale della polizia provinciale di Milano Monza e Como su delega della procura di Milano che in passato ha richiesto di accertare eventuali responsabilità diretto e indirette connesse al fenomeno delle esondazioni e di rilevare attraverso la verifica della funzionalità dell'intera asta fluviale dalla sorgente nel comune di Cavallasca in provincia di Como sino al suo interramento a Bresso a Milano tutto ciò che ne compromettesse il regolare decorso tutta la documentazione raccolta è stata consegnata alla procura per quelli che saranno i passi successivi Mantova è la capitale italiana della cultura 2016 ad annunciarlo il ministro Dario Franceschini al termine di una breve cerimonia che si è tenuta al ministero della cultura dove si è riunita la commissione sono particolarmente emozionato queste le prime parole del sindaco Mattia Palazzi scelta tra le dieci città finaliste Mantova così battuto tutte le rivali tra le quali Como, Ercolano Parma, Pisa eccetera oltre allo scettro di capitale alla vincitrice anche un milione di euro per realizzare il progetto presentato e l'esclusione delle risorse investite dal vincolo del patto di stabilità questa era l'ultima notizia di questo telegiornale dopo di noi il meteo e poi ovviamente Nova Stadio perché oggi c'è l'anticipo del turno infrasettimanale in campo l'Inter a Bologna al Dallara per cui seguiamo questa serata Nera Azzurra insieme al direttore Gianni Misdadi e ai suoi ospiti buona serata davvero a tutti sugli schermi di Telenova per aver guardato